Pugno duro dell'amministrazione comunale di Eboli per debellare il problema della prostituzione. 30 in tutto le contravvenzioni emesse da fine marzo ad agosto per un totale di 15.000 euro. 20 invece le meretrici allontanate in seguito ai controlli, tuttora in corso anche per impedire che dalle zone limitrofe arrivino minorenni oggetto di tratte e schiavitù. Una problematica comune a gran parte del territorio a sud di Salerno, in particolare nell'area della fascia costiera. Grazie.